Eccola qua... Vieni, vieni... Ciao a tutti, sono le 5 e mezza di mattina e siamo in una camera d'albergo vicino a Malpensa perché tra poco io ed Eleonora, qua dietro, partiremo alla volta di Londra. Eccoci qua, siamo arrivati a Londra. Adesso andiamo in albergo e poi ci vediamo con i ragazzi dell'Emporio Stregato perché questo viaggio di Londra è all'insegna e alla scoperta dei luoghi principali della saga di Harry Potter. O no? Abbiamo appuntamento con gli altri alle 3 e adesso mettiamo giù bagaglie e ne approfittiamo per visitare un po' la città. A dopo. 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 A include. A dopo. A dopo. A dopo. A dopo. poi siamo tornati in albergo e ci siamo rilassati un po ci siamo riposati oggi invece passeremo tutto il giorno agli studios quindi effettivamente vedremo il set dei film di harry potter e poi andremo anche il binario 9 3 quarti faremo un po di video un po di foto e vi lascio alle immagini per aver guardato il video un po di video un po di video un po di video un po di video ciao 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 sono le 8 e mezza terzo e ultimo giorno qua a londra oggi faremo il muggle tour quindi il tour dei babbani e visiteremo alcuni luoghi chiave di londra e poi nulla ci separeremo dal il resto della compagnia il resto della compagnia magari se facciamo in tempo faremo un giro a Camden vediamo io ed Eleonora poi andremo in aeroporto e riprenderemo l'aereo che ci riporterà in Italia qui con la il centro il centro e il centro il centro il centro Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti